L'esercizio è questo, quasi sul posto, ok? Tanti tocchi, tanti tocchi, poi quando arrivi lì la spingi sotto, ok? Ok? Se riusciamo senza guardare il pallone. Lo facciamo più possibile, ok? Pronti? Senta. Più tocchi facciamo, meglio è. Se riusciamo anche senza guardare il pallone. Pronti? Tranquillo, tranquillo, non aveva paura. Dai, dai, tanti tocchi. Tanti tocchi. Tanti tocchi. Piano. Fa niente, dai, dai, fa niente. Sì, bravo. Dai, dai, partite, partite. Quando arrivano al secondo partite. Dai, dai, fa niente, fa niente. Fa niente, fa niente. No, non, 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 non. So, sì. Ciao.